allora unboxing però è un pacco arrivato del GLS in realtà l'ho già aperto ragazzi perché non mi piace fare i video di unboxing l'ho già aperto e all'interno come vedete non c'è niente perché è più che altro il cartone perché in realtà l'ho già appeso c'era questo qua ditemi se vi piace negozio telefonia questo devo fare cartello nuovo pack speed qui speed subito facile e veloce speed namirial i miei loghi tiscali partner facebook questo instagram un porto vedere dsl questo qui è youtube un porto qui speed pack subito firma elettronica digitale senza appuntamento facile veloce anche se alle poste non ci sono riusciti e miei marchi tiscali sky il lumia whatsapp e l'access point ps amazon imposti link che poi riprende il lumia riporti cambiamo le bollette avevo fatto già altri video vi ho fatto vedere come avevo tolto questo adesso vi voglio far vedere un'altra cosa qua giusto faccio vedere che il mio nuovo modem fritz box e questo qua il prossimo video che sto preparando questo qua è quello il al che avevo le da restituire comunque prossimo video sto facendo tutto questo qua volevo farvi vedere perché mi sono arrivate anche le cartoline di cui avevo parlato in un altro video sono 2.500 cartoline come potete vedere se riesco a prenderla è molto pesante vedete io ne ho già usato ovviamente perché la scatola era mezzo vuota vedete vi faccio delle cartoline che riprendono che riprendono più o meno vedete sempre importo tiscali partner negozia telefonia questo le usi come biglietti da visita c'è whatsapp questo riprende le stesse cose del cartello in più questo qui è nuovo questo è speed cagliari qui subito speed pack firma elettronica digitale cns firma elettronica digitale cns carta nazionale dei servizi e sempre luoghetti senza appuntamento va bene adesso sto preparando un'altra cosa come vedete qui io ho la plastificatrice devo praticamente plastificare devo fare gli orari gli orari da questo andrà messo qua dentro con gli orari per appenderlo fuori nella vetrina quindi ecco un'altra cosa che devo fare nuova la faccio vedere è questa qui ditemi nei commenti questa la voglio cambiare perché rovinata si vede devo togliere le luminaria adesso però fa bel tempo trovo le luminarie lo voglio fare nel nostro modello di questo stavo pensando di togliere quel marchetto tiscali quel marchetto wifi l'uno e l'altro e scrivere i marchi nuovi di tiscali di link e di sky stavo pensando ma ditemi voi ciao ad andrea ciao ciao